Tra duali di folla acclamante passa il pastoso corteo delle berline reali che reca al palazzo del Quirinale la delegazione giunta da Tiberg a sua maestà Vittorio Emanuele III. C'è artefice dell'evento che oggi lega all'Italia. I destini di una giovane nazione già prendono posto sul trono. Ecco il voto unanime del popolo albanese di eleggere dopo la risposta di sua maestà il re imperatore che accoglie l'offerta e il giuramento di fedeltà i membri della missione spilano. Da oggi è divenuto il loro sovrano.